Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny 2 con il nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur e all'analisi di quello che venderà. Iniziando come al solito dall'arma esotica, questa settimana venderà la lente di Prometeo, un fucile laser introdotto con la maledizione di Osirida il cui perk intrinseco sarà Inferno Prismatico. Spara un laser solare e genera un campo di calore che cresce di intensità mentre l'arma continua a spalare. Praticamente il laser di quest'arma avrà un raggio davvero largo quindi infliggerà di danni ad aria. Vale la pena utilizzarlo? Non li ho ancora provati dopo la patch, devo essere onesto, di base vi direi di no. Non sono così tanto forti i fucili laser divertenti, ottimi per cambiare essendo comunque ancora una novità di Destiny 2, ma se non il cuore gelido in determinati step diciamo che non hanno mai avuto un'effettiva utilità. Magari dopo la patch ne vale la pena, non li ho provati. Nel dubbio voi compratelo che come arma sicuramente non è da buttare. Per la classe del cacciatore poi venderà il radar zuccone, un casco esotico il cui perk intrinseco sarà sensore potenziato e molto banalmente esattamente come in Destiny 1 questo perk vi consentirà di avere il radar attivo quando si mira al bersaglio con una qualsiasi arma, al contrario di Destiny 1 in cui era soltanto con le armi primarie. Vale la pena utilizzarlo? Praticamente inutile nel PvE, ma nel PvP se è ben sfruttato, se è sfruttato attivamente dal giocatore guardando costantemente il radar, è un buon pezzo d'armatura e sì, ne vale la pena. Motivo per cui ve ne consiglierei l'acquisto. Per la classe del titano venderà il risveglio cinereo, dei guanti esotici introdotti proprio con la mente bellica, una novità quindi il cui perk intrinseco sarà ondata di calore. Le granate a fusione esplodono all'impatto e vengono lanciate più velocemente, quindi le nostre granate, le granate a fusione, quelle che si attaccano dalla classe solare, esploderanno direttamente a contatto, non bisognerà aspettare la detonazione. Non li ho ancora provati, devo essere onesto e presumo che quando aggiorneranno le armature esotiche questo perk fornirà anche una seconda granata o le bufferà leggermente, ma in generale mi sembra un buon pezzo d'armatura, ottimo quando i nemici sono ammassati e si vuole sfruttare il primo possibile proprio questo vantaggio, si tira la granata, il danno dovrebbe essere invariato e si fanno dei danni ad area. Motivo per cui vi consiglierei l'acquisto, ma con un certo livello di incertezza, non li ho ancora provati appunto, sembrano semplicemente buoni. Comunque sono nuovi quindi prendeteli, provateli e fatemi sapere nel caso se ne vale la pena. Infine per la classe dello stregone venderà il Vespro raggiato, un torace esotico introdotto con la maledizione di Osiride il cui perk intrinseco sarà torrente planetario. Attivare la fonte rilascia un'ondata d'arco, l'energia della fonte si ricarica più velocemente quando si è circondati da nemici ed essendo la fonte una delle migliori abilità presenti nel gioco sfruttabile sia nel PVP che nel PVE, viene da sé che questo è un buon pezzo d'armatura e senza dubbio ne vale la pena. Quindi anche qui vi consiglierei di acquistarlo. Come al solito Poixur venderà i 3 di ori, venderà un nuovo oggetto che è il 5 di spade, che come vi spiegavo in un video news qualche settimana fa, qualche giorno fa più che altro, è un libricino per attivare diversi modificatori all'interno del calo alla notte per renderlo ancora più tosto ed infine venderà il classico engramma predestinato il cui potere luce è apparentemente cappato 340, quindi al soft cap. Però essendoci comunque tanti nuovi pezzi d'armatura tentiamo un po' la sorte e vediamo cosa viene fuori. Una bellissima spata dofide, vediamo cosa fa, vediamo cosa fa, dita forbice, fornisce due coltelli per carica. Meglio che niente, almeno il coltello da lancio ha uno scopo, in certi casi fa addirittura più danni delle granate quindi sicuramente non posso lamentarmene. In ogni caso ragazzi questo era l'assurdo di questa settimana, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane seguiranno davvero tantissime guide, le sto preparando quindi abbiate fede, arriverà il ride, arriverà tutto. A tempo debito abbiate semplicemente pazienza. Per il momento vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!